Buongiorno e benvenuti alla resegna stampa di oggi lunedì 21 novembre 2016 come tutte le mattine dal lunedì al sabato c'è la lettura dei giornali e cominciamo con il calendario per vedere oggi che cosa ricorda la chiesa cattolica oggi la chiesa cattolica fa memoria della presentazione della beata vergine maria insieme alla chiesa ortodossa e si tratta di una memoria liturgica che ricorda quando maria fu presentata al tempio da al tempio di gerusalemme nel nuovo testamento non c'è traccia di questo episodio che invece viene abbondantemente documentato nei testi apocrifi nel protovangelo di giacomo in particolare dove si racconta questo fatto della presentazione di maria bambina al al tempio come tutti come tutti gli ebrei insomma del tempo allora il sole sorto alle 7 09 tramonterà alle 16 e 39 diamo il tempo per oggi oggi avremo un cielo sereno insomma più poco nuvoloso con temperature lieve diminuzione quelle minime e stazionare le massime per domani martedì invece più o meno la situazione la stessa parzialmente nuvoloso con temperature senza variazione di rilievo avremo tempo stabile almeno fino a giovedì venerdì poi dopo arriva il cattivo tempo allora cominciamo a leggere i giornali oggi possiamo dire hanno vinto i pesaresi hanno vinto i pesaresi l'ospedale unico si farà a muraglia hanno dopo tutto il chiasso che si è fatto sull'algoritmo questo algoritmo che doveva decidere in base a dei parametri qual era il luogo migliore il sito migliore dove costruire questo ospedale che servirà queste due importanti città la seconda e la terza città delle marche ovvero pesarefano abbiamo assistito a battaglie campanilistiche abbiamo assistito alla fine ha vinto chi ha vinto o chi ha perso adesso bisognerà analizzare un po perché ceriscioli il presidente della regione come vedremo ha subito detto ok allora voi avete deciso per l'area pubblica bene l'area pubblica è quella di muraglia dove non c'è bisogno di fare degli espropri non c'è bisogno di perdere troppo tempo si costruirà sul costruito e quindi muraglia sia così vedremo tra poco sulla pagina del resto del Carlino chiaramente i fanesi restano con il cerino in mano con il sindaco Seri che adesso probabilmente dovrà fare fuochi e fiamme per cercare di salvarsi in qualche modo si gioca chiaramente il suo secondo mandato da sindaco e insomma la situazione è tutt'altro che semplice andiamo a vederla sui giornali allora cominciamo dalla foto notizia del resto del carino e muraglia sia come dicevamo ceriscioli annuncia dunque la nuova scelta per l'ospedale unico i sindaci hanno dato l'indicazione su quest'area pubblica bocciato fosse sei ore ma la rivolta di fano è appena ricominciata guardate cosa scrive il resto del carlino pesarese tra algoritmi e assemblee dei sindaci l'unica cosa sicura è che la confusione regna sovrana ceriscioli tira dritto non volete fosse o sei ore bene ecco muraglia e si arrabbiano i suoi territori di chiaruccia che volevano fare i furbi furbi come coloro che contestano spettacolo indecoroso e allora andiamo a vedere e vedremo gli attori di questo spettacolo indecoroso bisognerà anche togliere le maschere in qualche modo per vedere chi sono questi attori che hanno fatto questa sceneggiata che hanno portato questo risultato ceriscioli rilancia subito muraglia l'area è pubblica quindi titoli di coda come si fa di solito no alla fine del del film l'area pubblica ai tempi ridotti il santa croce non chiude rassicura rimarranno il pronto soccorso e la diagnostica l'algoritmo non viene citato ma è alla base della scelta dopo la decisione dei sindaci massimo seri minaccia le barricate a fano decisione subdola dunque sarà guerra senza confini è un sindaco di fano furioso quando apprende che luca ceriscioli ha scelto muraglia per l'ospedale unico sta tenendo dice rabbioso un comportamento scorretto e offensivo nei confronti di fano e di tutti i cittadini quella che viene comunicata da ceriscioli è una decisione scrive sempre il giornale sleale antidemocratica e subdola perché chi vuole muraglia non ha il coraggio di metterci la la faccia ok allora questa è un po è un po quello che scrive il giornale il resto del carino su questa su questo argomento sempre caldo della sanità ma andiamo andiamo a vedere invece la pagina di fano perché sabato ci siamo risvegliati con due ristoranti in pieno centro storico completamente uno distrutto completamente andato in fiamme l'altro per fortuna la sera già ripreso a lavori chiari nel senso che ha rimesso a posto un po la saletta la sala in veranda stiamo parlando di due ristoranti tra l'altro uno famosissimo la bella napoli l'altro è l'ex casanolfi oggi tiravino insomma è un evento come scrive anche il giornale questa mattina incomprensibile i due ristoratori dopo gli incendi dicono e rassicurano noi non abbiamo nessun nemico non abbiamo ricevuto nessuna minaccia quindi non sappiamo darci una risposta a quello che è successo dunque che cosa può essere stato un atto vandalico un pazzo che a un certo punto entra alle sei e mezzo della mattina tra l'altro quindi neanche in piena notte con gente che comincia a essere in giro a quell'ora perché poi sabato è giorno di mercato quindi si si anima presto il centro storico ebbene dal vandalismo alla vendetta difficile arrivare al pizzo la bella napoli comunque è già al lavoro come dicevamo anche questo è un altro argomento sul quale bisognerà porre tutta l'attenzione possibile non solo non tanto giornalistica ma sicuramente dal punto di vista delle indagini nel film invece c'è l'anteprima è stata proiettata dal film è stato proiettato il film sul cennibali l'avvocatessa peserese sfregiata con l'acido nel film la compagna di varani non appare francesco coli che interpreta se stesso lo ha visto in anteprima lo ha chiesto dice lucia credo che la città possa aver voltato le spalle a varani e non alla compagna oggi alla camera con la presidente della camera boldrini la boschia i vertici della rai alle 17 30 ci sarà la proiezione di questo film questa fiction che si intitola io ci sono proceduto da un incontro dibattito con la presidente boldrini la ministra marielena boschi il direttore generale antonio campo dall'orto e la direttrice di rai fiction eleonora andreatta e appunto ci sarà anche la stessa annibali lei non accusa la città chiede di essere lasciata in pace dice il sindaco matteo ricci che ha letto la lunga lettera scritta dalla compagna di luca varani con la quale parla forse per la prima volta di sentirsi l'altra vittima dell'acido non credo che la città voglia seppellire nell'indifferenza se non ostilità la donna che ha avuto una figlia da luca varani e infatti che c'entra lasciamola in pace non c'entra assolutamente nulla alla fine vedete guardate questa fotografia forse riconoscerete l'ambona di una chiesa e c'è un carabiniere che cosa ci fa un carabiniere un maresciallo alla messa ebbene ha fatto una cosa bella ha parlato dal pulpito ai fedeli delle truffe le truffe che in questi giorni sono come d'altra parte in ogni momento dell'anno purtroppo sono sempre attive queste truffe nei confronti soprattutto degli anziani e quindi attenzione alle truffe ecco come evitarle ieri mattina voleva dire questo e molto altro il marisciallo di San Giorgio di Pesolo Antonio Russo lo ha fatto durante un incontro pubblico e poi anche appunto durante alla fine della della messa l'incontro previsto si sono presentati in due in chiesa invece c'erano tutti e allora che cosa ha fatto è andato in chiesa è andato in chiesa e lì li ha trovati tutti andiamo sull'altra pagina del del resto no il resto del canino lo possiamo anche chiudere a questo punto sì perché poi ci sono gli inserti sportivi allora andiamo sul Corriere Adriatico anche qui in evidenza massima evidenza sulla prima pagina di Pesaro Ceriscioli ha deciso l'ospedale a muraglia area già edificabile non servono varianti tensioni affano seri vuole una nuova assemblea il governatore non frappone indugi dopo la bocciatura di Fosso Signore da parte del dei sindaci Ceriscioli comunica che il nuovo ospedale si frammula a muraglia l'area è già destinata a Marche Nord e dunque non servono varianti c'è tensione a Fano il sindaco seri annuncia che è stata chiesta un'altra assemblea di area vasta per superare l'algoritmo allora poi c'è lo sport a centro pagina c'è anche vedete la notizia che riguarda Fano raid dei ladri in centro si temono altri attentati a Fano la paura dopo gli incendi la pizzeria ha riaperto indagini della polizia a tutto campo il turismo corre in bicicletta Pesaro mira al nuovo target partnership con la regione per attirare il movimento europeo si punta ad un consorzio di bike hotel allo studio il percorso per la zona industriale sempre su questo argomento un tracciato intercomunale verso le frazioni di Monte Labate gli itinerari ciclabili anche per permettere in sicurezza la viabilità della periferia e attenzione c'è davvero un altro mondo dietro le due ruote ovvero ecco ovvero c'è un turismo che non ti aspetti ma nel senso che esiste c'è un sacco di gente per esempio che viene dall'estero per pedalare sulle nostre colline sui nostri sentieri sono meravigliosi e noi a volte non ci accorgiamo nemmeno perché ci sono dei tour operator che li prendono li vanno a prendere all'aeroporto li portano qua li fanno stare qualche giorno fanno le loro scampagnate con le biciclette poi ritornano nei loro paesi d'origine e c'è un turismo molto molto importante che va certamente valorizzato andiamo avanti ancora velocemente siamo in chiusura ceriscioli ancora sulle pagine di Pesaro del Corriere l'ospedale a muraglia il governatore annuncia la sede di Marche Nord la bocciatura di Forso Signore il Santa Croce resterà dice ma sapete che le promesse dei politici a questo punto visto come stanno andando le cose comunque lui dice resterà un nosocomio il presidente promette interventi sul collegamento da sud e la clinica privata a Fano se riconvochiamo la conferenza attenzione per la nuova accelerazione è possibile possibile il nome di una lista che fa una confusione quando si cita è possibile chiedere dimissioni del sindaco sono possibili insomma vediamo vedrò il film su Lucia come se fosse allo specchio invece è l'altra pagina del Corriere sull'anteprima vedete qui un fermo immagine di Domenica In come se fosse allo specchio l'attesa dell'ex comandante Gino Procida per la fiction di Rai 1 sul Calvario di Lucia Nibali Gino Procida lo vedete nel video wall così si chiama lo schermo gigante nello studio della Rai dove c'era tra l'altro erano presenti Pippo Baudo eccolo qua poi Chiara Francini Cristiana Capotondi e poi la stessa Lucia Nibali a Domenica In nel riquadro invece il comandante appunto Gino Procida che adesso è in pensione l'avvocatessa ospite dice così ora posso aiutare gli altri andiamo adesso sulla pagina sull'altra pagina del Corriere Adriatico c'è una notizia che arriva sempre da Pesaro timori per la meningite è chiusa la nuova scuola esami negativi per un bimbo ma il preside vuole evitare rischi siamo appunto in una scuola di Pesaro dove per precauzione il preside appunto ha chiuso l'istituto a Fossombrone invece guardate qua la notizia cinghiali contro l'auto il sindaco dice faccia sindaco faccia qualcosa lettera appello di una donna al sindaco Bonci che annuncia l'acquisto di speciali catarifrangenti lo scorso anno ho subito un danno di 5 mila euro senza aver ottenuto un rimborso si parla di animali selvatici che scorazzano lungo le strade che sono un pericolo per la pubblica incolumità dalla pagina di Urbino comune un vaso di Pandora pericolo mobbing il PD chiede al comitato unico di garanzia una verifica sui dipendenti nel mirino dei Demi il rifiuto del sindaco sulla mozione ad hoc presentata in consiglio da Fano raid di ladri in centro notte di paura indagine a tutto campo sugli incendi il sindaco porta la solidarietà agli imprenditori colpiti dagli attentati la pizzeria ha già riaperto, stiamo parlando della pizzeria La Bella Napoli i danni sono ingenti invece per Tiravino e ammontano 10 mila euro per La Bella Napoli presi di mira 4 esercizi, furti in 2, i colpi sono stati messi a segno nelle vie Cavour e Garibaldi bottino misero non penetrano invece, non sono riusciti a entrare in un bar allora la Valle del Cesano invece, attenzione falsi carabinieri l'arma istruisce i ragazzi a scuola distribuiti opuscoli informativi per le famiglie contro le truffe a domicilio l'assessore di San Giorgio Silvia Bonci apprezza il coinvolgimento degli alunni Mondolfo oggi celebra la giornata internazionale in vista del Consiglio a tema vogliamo ascoltare i bambini e gli adolescenti e questa è la giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in programma questa mattina a Mondolfo da Senigallia Leonardo dall'edicola all'arte addio al gallerista Galantuomo Pambianchi aveva 63 anni ed era conosciuto come il giornalaio Buono l'assessore campanile dice di lui Leo va ricordato anche per il suo impegno nel sociale l'ultima pagina sempre da Senigallia fuga di gas in una abitazione i vicini scongiurano il dramma bombola difettosa, casa satura di GPL gli inquilini non si erano accorti di nulla sul posto i vigili del fuoco i carabinieri che hanno sequestrato tre contenitori la resegna stampa Occhio e Giornale finisce qui torneremo domani mattina come sempre alle 7.30 questa sera invece vi aspettiamo alle 20.30 con il telegiornale Occhio alla Notizia per tutte le vostre segnalazioni vi ricordo il nostro numero 338 49 68 250 che potete utilizzare anche con l'applicazione Whatsapp a voi tutti l'augurio di una buona giornata Grazie a tutti